6 e 7 anni di matrimonio, 6 volte 9 mesi con il corpo deformato e sempre uno attaccato al seno, affamato, mi sembra quasi di essere una banca, mi faccio schifo. Dovessi dire la verità, mica li amo i miei figli, li sopporto, ma non li ho mai amati, neanche il primo, 16 ore ci ha messo per venire al mondo a spaccarmi la pancia. Solo una volta, un'estate, sono stata felice. Avevo 16 anni e ho un corpo grezioso. Gli uomini mi guardavano, ma non usavano toccarmi. Non era bello il tempo quell'estate, ma io mi sentivo leggera. Lei come fa con suo marito? Ci vado a letto meno che posso. Sì, ma Roberta non ci starete. Allora che sa, viene domani? Sì, sì, grazie.